Va bene, buonasera a tutti. Apriamo stasera la tre giorni di un seminario dedicato a Kant contro la guerra permanente, Kant e il futuro dello Stato civile. Un seminario dedicato alla lettura del progetto per una pace perpetua, opera che Kant, come sapete, scrive nel 1795 sull'onda dell'entusiasmo per un evento preciso perché nella primavera di quell'anno c'era stata la pace di Basilea dove la Repubblica Francese aveva raggiunto la pace con la Spagna, con l'Olanda ma soprattutto con la Prussia che aveva finalmente riconosciuto l'esistenza di uno Stato rivoluzionario francese. La pace perpetua è, lo ridico, ma è superfluo, un'opera di carattere fortemente illuministico, però è anche un'opera, diciamo, di filosofia pratica. La storia e la natura convergono verso la finalità morale dell'uomo, ma punto di passaggio obbligato è la creazione di un'istituzione che sorvegli la naturalità e faccia sviluppare invece la ragione. Quest'istituzione appunto è lo Stato, per cui nella pace perpetua, come gli individui si sono accordati tra di loro per aver raggiunto la pace attraverso lo Stato, la stessa cosa gli Stati, in quanto individui in grande, dovranno accordarsi fra loro in una federazione per raggiungere la pace. Questo seminario di tre giorni cercherà appunto di soffermarsi sul sistema del diritto pubblico nei suoi tre livelli principali. Stasera ci dedicheremo al diritto pubblico e statale, alla nozione di Costituzione repubblicana. Domani il diritto delle genti fondato sul federalismo e di liberi stati. E mercoledì il diritto cosmopolitico e il progresso dell'umanità. A tenere il seminario è con noi, mi fa molto piacere presentarlo, il professore Emanuele Cafagna, professore di storia della filosofia presso l'Università di Foggia. I maggiori interessi del professore sono dedicati alla filosofia classica tedesca e alla storia del razionalismo del pensiero occidentale. Merita due parole, vorrei dare, insomma due parole su una grande monografia, grande anche nel senso di corposa monografia, perché è un bellissimo volume. Kant è la metafisica della forza, un'interpretazione dei primi scritti, edito per la storia e letteratura del 2020. Ed è una monografia particolarmente importante, perché propone un'interpretazione sulla prima filosofia di Kant, sul concetto di forza, che viene messo al centro di un'interpretazione particolare, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista metafisico, se non erro. Il professore mette al centro di questa monografia l'analisi di due scritti di Kant, che non sempre sono stati giustamente valutati, cioè Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, del 1746, e Storia universale della natura e teoria del cielo, del 1755. Sono due opere che, nonostante appartenessero a un Kant, ai primi scritti di Kant, sono due opere estremamente importanti. Stasera il professore, così come domani e dopodomani, sarà con noi per una lettura appunto sulla pace perpetua di Kant. Gli scedo volentieri la parola. Grazie mille per la presentazione. Mi sentite tutti bene, chiaramente? Consentitemi di ringraziare Fiorinda Livigni e Nello Preterossi per l'invito. Io sono molto felice di essere qui a Napoli. Mi lega all'istituto, diciamo, mi legano molte memorie e consentitemi anche di ricordare in questa occasione l'avvocato Marotta, che ho conosciuto quando avevo esattamente la vostra età, e ho un ricordo molto caro di lui, una persona di grandissima liberalità e di grande curiosità intellettuale, per cui era capace di avere la stessa curiosità intellettuale per i lavori di grandissimi studiosi e anche per i lavori di uno studioso alle prime armi, come ero io allora. Allora, io ho preparato per questi nostri tre incontri un testo da leggere. Spero di non essere troppo noioso e potete in qualsiasi momento interrompermi. E come si diceva prima nella presentazione, è un testo che vuole riattraversare un po' tutta la filosofia del diritto e politica kantiana. Naturalmente, io ho scelto alcuni temi in particolare, che vengono maggiormente approfonditi. Questo vuol dire che durante il dibattito, se ci sono cose poco chiare o non sufficientemente approfondite, sentitevi assolutamente liberi di interrogarmi su questo e di pormi le questioni che volete. Allora, cominciamo con la prima lezione. Kant è stato spettatore di una trasformazione irreversibile della guerra. Nella sequenza di guerre che attraversa il Settecento europeo e che culmina nella guerra dei Sette anni, la guerra ha assunto un carattere che noi uomini del XXI secolo assumiamo per scontato, ovvero sia la sua dimensione mondiale. Ai motivi patrimoniali, religiosi, dinastici per cui si sono sempre scatenate le guerre nell'Europa moderna, si sommano gli interessi che oppongono le potenze europee negli imperi coloniali. Le guerre rafforzano, distruggono equilibri che regolano il controllo non soltanto dei territori compresi nel continente europeo, ma anche delle direttrici di una rete di scambi che avvolge l'intero pianeta e che sarà destinata da quel momento in poi a divenire sempre più fitta. Dopo di allora nessuna parte della Terra, anche la più distante e nascosta, potrà dirsi esclusa da una connessione che rende ogni evento bellico, gravido di conseguenze, per ogni luogo del pianeta. Quando definisco Kant uno spettatore di questo processo, non sto proponendo un'immagine metaforica. Königsberg ha offerto un punto di osservazione privilegiato per guardare al mondo dalla prospettiva approntata dalla guerra. Fra il 1758 e il 1762, la città è stata al centro di una fase cruciale della guerra dei Sette Anni, nella quale la tenuta dello Stato prussiano ha vacillato di fronte all'alleanza fra l'Austria e la Russia. Il 21 gennaio 1758, dopo gli accordi per la sua capitolazione, il generale Wilhelm von Fermor, che era un tedesco che però lavorava per i russi, prende possesso della città di Königsberg, che viene annessa al patrimonio della imperatrice Elisabetta di Russia, divenendo così a tutti gli effetti una nuova provincia dell'impero russo. Nel 1760, inoltre, questa condizione viene sancita dal riconoscimento di questo nuovo status della città da parte della imperatrice d'Austria, Maria Teresa, che aveva finalmente l'occasione di liquidare per sempre l'arrogante politica di Federico il Grande, cominciata vent'anni prima con la prima invasione della Slesia. Ecco, voi sapete che Kant è nato nel 1724, quindi tutti questi avvenimenti avvengono quando lui ha più di trent'anni, quest'anno ricorre il centenario della nascita, e quindi, diciamo, questa occupazione russa della città di Königsberg ha rappresentato, evidentemente, anche per la sua biografia, una componente da non trascurare. L'avanzata delle truppe russe in Prussia, soprattutto fuori dai grandi centri urbani, è stata segnata da saccheggi, stupri, violenze. Ma il ricordo dell'occupazione russa di Königsberg, ci riferiamo a quella del Settecento, non deve evocare in noi soltanto immagini di desolazione e distruzione. L'occupazione russa ha segnato un periodo di relativa prosperità per Königsberg, che dalla presenza in città delle guarnigioni russe trasse vantaggi, e non soltanto economici. Anche le forme di socializzazione e la vita culturale subirono un mutamento che fece allontanare la città dall'austerità pietistica che ne costituiva il tratto predominante. Siamo lontani da una situazione di guerra in cui l'occupazione nemica venga vissuta dalla popolazione locale come un atto cui opporre resistenza. Certo, l'attesa minaccia dell'ingresso delle truppe russe non escluse forme di mobilitazione della popolazione civile. Dopo la sconfitta dell'esercito prussiano a Gross-Jegendorf e la minaccia di un'invasione che non avvenne, il 30 agosto 1756 i commercianti e gli artigiani della città allestirono una milizia cittadina dotandosi di armi e munizioni acquistate a proprie spese. Ma il principe elettore vietò questo tipo di coinvolgimento diretto della popolazione cittadina e la scarsa propensione dei civili a prendere parte a una resistenza armata trasformò presto in una farsa la partecipazione alla milizia di cittadini male armati e male equipaggiati. Quando la paura di una minaccia incombente si è sostituita alla realtà dell'occupazione effettiva a quegli stessi che si erano improvvisati i cittadini soldati hanno convissuto con le truppe nemiche. Anche Kant non sembra aver vissuto come un trauma l'occupazione russa di Königsberg. Si ricorda spesso una sua lettera del 28 ottobre 1759 quindi in piena occupazione russa in cui le uniche fonti di preoccupazione del filosofo sono la ripetitività della sua attività didattica e la polemica sull'ottimismo con il cruziano Weiman. Sappiamo, peraltro, che l'attività didattica di Kant era favorita anche dagli ufficiali russi che potevano pagare lautamente le lezioni tenute dal giovane privat docent. Ma c'è un altro dato biografico che caratterizza la vita di Kant negli anni dell'occupazione russa di Königsberg. È probabile che in quegli anni Kant abbia esercitato il ruolo di precettore privato nella residenza dei Kaiserlings una famiglia di antica nobiltà della Vestfalia i cui membri avevano avuto un ruolo di primo piano nella genesi del recente Stato prussiano. Kant ha probabilmente preso parte ai Salon di Caroline von Kaiserlings nello Schliebensche Palast partecipando alla vita di una famiglia nobile la cui corte aveva una centralità politica e culturale difficilmente trascurabile nella Prussia del tempo. Perché sto ricordando queste circostanze? Che importanza ha l'esperienza personale di Kant rispetto alla riflessione filosofica sulla guerra e sulla pace che è quello che qui ci interessa? Nessuna si potrebbe dire se si tengono accanto le immagini dei campi di battaglia e quelle di una dimora nobiliare dell'Europa del Settecento. Eppure la riflessione sulla guerra e sulla pace nel pensiero di Kant va inquadrata in una cornice teorica che non è troppo lontana da quella definita dalla sua concreta esperienza biografica. Quando si parla di Kant teorico della pace bisogna partire dal significato morale che il fenomeno della guerra assume non soltanto sui campi di battaglia ma anche per chi al suo svolgersi assiste protetto dalla vita civile. La guerra in forma degli stati settecenteschi si svolge lontana dalla vita civile eppure essa fornisce un imprescindibile panorama per osservare lo stato morale dell'umanità e valutarlo. C'è un'espressione che ritorna a distanza di anni negli scritti kantiani e che Kant utilizza per definire lo stato presente dell'umanità in quell'Europa di cui lui fa parte. Questa espressione è splendida miseria. L'espressione deriva dal motto latino aulica vita, splendida miseria. In italiano appunto lo tradurrei brillante miseria. La vita nelle corti è miseria brillante. Cioè aulica vita, splendida miseria, la vita delle corti è miseria brillante che è un verso di un poema di un autore francese, Claude Mignot, il poema si intitola De Aulicis, che ha avuto ampia diffusione nell'Europa dell'età moderna perché è ripreso negli emblemata del nostro André Alciato. Quindi ogni volta che Kant dice brillante miseria il riferimento è a questo Claude Mignot. Un riferimento alla brillante miseria che Kant traduce con Glencens' Eiland o Schimmens' Eiland si trova già nella riflessione 1989 che è testimonia di una notazione al manuale di logica di Mayer del 1752. Ma ricorre sia nell'idea per una storia universale da un punto di vista cosmopolitico, che è uno scritto del 1784, sia nell'inizio congetturale della storia dell'umanità, che invece è uno scritto del 1786, sia infine anche nella critica del giudizio. Leggo il luogo in cui ricorre nella idea e per chi ha l'end out vi rimando alla prima citazione. Kant scrive «Tutto il bene che non sia innestato su una buona disposizione morale non è che mera parvenza e miseria brillante. Il genere umano resterà certamente in questo stato fino a che non si sarà tratto fuori dallo stato caotico dei rapporti fra i suoi stati». Fine della citazione. «Fino a che non si realizzerà una pace duratura che si sostituisca allo stato di guerra fra stati, lo stato civile degli uomini sarà miseria brillante. Il lusso e le comodità che il processo di civilizzazione allestisce sono lo smalto sul nulla, una superficie dorata che copre una sostanza morale che rimane la stessa dell'uomo primitivo o del barbaro. Nelle corte europee ci si ritiene immuni da una barbarie che viene vissuta come una minaccia incombente, ma la realtà è che non c'è alcuna differenza fra il grado di moralità del barbaro e quello dell'uomo civilizzato. Questo è lo sfondo da cui vorrei partire. La guerra vista quindi non soltanto come un tema che appartiene alla filosofia giuridica e politica ma prima di tutto come un problema morale. La prima parte della mia relazione sarà dunque dedicata al significato morale del fenomeno della guerra rispetto alla teleologia naturale. Da qui bisogna a mio parere partire per impostare poi problemi più strettamente giuridico-politici. E' quello che farò nelle successive due parti che sono dedicate rispettivamente alla definizione kantiana di diritto e alla definizione kantiana di stato di natura e stato civile. Quindi parto con la prima parte che si intitola La guerra tra teleologia e morale. Il fenomeno della guerra e le ragioni per perseguire la pace hanno un ruolo centrale nella definizione degli obiettivi teorici di fondo della filosofia kantiana. Kant non è certo il primo a fornire una riflessione filosofica su questi aspetti ma ciò che rende peculiare il rapporto di Kant con questi temi è il fatto che nella sua filosofia la guerra e la pace assumono da subito un rilievo che supera i limiti della riflessione politica. E' possibile ipotizzare che riferimenti alla guerra come condizione nella quale l'umanità rivela il suo lato più abietto si possano individuare già nella nuova di Lucidazio una dissertazione universitaria dedicata a temi metafisici che risale al 1755. Un richiamo alle atrocità di cui l'umanità si è resa responsabile nella sua storia appare nella preposizione ottava di questo scritto dove il tema della presenza del male nel mondo è legato a un peculiare approccio alla teodicea e al tentativo di Kant di riformulare in senso nuovo la concezione laibniziana dell'armonia prestabilita. Lascio qui da parte approfondimenti ulteriori di questi primi tentativi kantiani ma li evoco semplicemente per rimarcare una continuità di lungo periodo. Come nella filosofia precritica anche nella filosofia critica i temi della guerra e della pace rimandano a questioni che non sono immediatamente attinenti al diritto ma che riguardano piuttosto la teleologia naturale e la teodicea. Questa affermazione può essere verificata prendendo in considerazione il primo scritto del periodo critico nel quale i problemi della guerra e della pace vengono trattati in maniera organica. Nella settima tesi della idea per una storia universale da un punto di vista cosmopolitico il problema della instaurazione di una costituzione civile perfetta viene fatta dipendere dal rapporto esterno fra gli Stati e dal raggiungimento nella relazione fra gli Stati della pace perpetua. Prima di considerare alcuni passaggi di questo scritto lasciatemi ricordare le circostanze della sua composizione quindi sto parlando di questo scritto del 1784 idea per una storia universale perché le circostanze di composizione di questo scritto chiariscono secondo me l'intento polemico che c'è sotto tutto questo testo kantiano. l'occasione per lo scritto è una breve notizia data nel febbraio 1784 dalla Goetheische Gelerte Zeitung secondo la quale una delle idee più care a Kant è che il fine ultimo del genere umano sia l'instaurazione della costituzione perfetta e che Kant stesso si augura che uno storico dotato di cultura filosofica possa un giorno fornire una storia dell'umanità che mostri quanto l'uomo si sia avvicinato o allontanato da questo fine nelle diverse epoche storiche e che indichi cosa manchi per raggiungerlo nella nota che fa apparire che fa apporre al titolo dello scritto cioè Kant quando pubblica questo suo scritto fa apporre una nota al titolo Kant conferma che la notizia data in questo giornale di recensioni di Gotha si riferisce effettivamente a un colloquio che si è svolto fra lui e uno studioso che gli era andato a fare visita ma al tempo stesso dichiara che le sue affermazioni riferite in quel modo non hanno senso da qui l'esigenza di prendere personalmente la parola e chiarire il suo effettivo pensiero sul tema in uno scritto l'aspetto principale che presumibilmente avrà suscitato le precisazioni Kantiane è che la nota della rivista assume la costituzione perfetta come un fine intenzionale dell'uomo e presenta Kant come qualcuno che voglia ammanire consigli per meglio indirizzare l'umanità a questo fine tutto il discorso di Kant nella idea invece mira precisamente a sganciare il problema del raggiungimento della perfetta costituzione dalla iniziativa politica degli uomini la tesi di fondo di Kant che è all'aria di un paradosso e che la costituzione perfetta è destinata a realizzarsi nella storia dell'umanità nonostante gli uomini agiscano intenzionalmente contro la sua realizzazione come lo scritto illustra nella sua quarta tesi l'ipotesi di Kant si fonda su un'idea generale dell'uomo e della sua posizione nella storia naturale che ha al suo centro la nozione di antagonismo con il termine antagonismo Kant denota l'insocievole socievolezza che caratterizza i rapporti fra gli uomini espressione ossimorica che serve a indicare l'unitarietà di una forza che si esercita secondo due opposte tendenze la tendenza ad associarsi e la tendenza a isolarsi riferendo queste due opposte tendenze a un'unica forza Kant non le sta conciliando ma sta invece dicendo che il conflitto è una componente ineliminabile della storia umana gli uomini non possono evitare di confliggere fra loro perché sono al tempo stesso attratti e respinti dai loro simili questa tensione è alla base sia della reciproca costrizione cui gli uomini si sottomettono all'interno dello Stato sia della guerra che è certamente un male per quanti vi vengono coinvolti ma è uno strumento di cui la natura si serve per istituire un potere dominante all'interno dei confini statali e per preparare una costituzione cosmopolitica che instauri la pace fra gli stati la constatazione che lo scritto di Kant si è prestato a essere frainteso già dai suoi contemporanei è una conferma delle difficoltà che questo scritto di Kant ha sempre suscitato anche in interpreti che si sono rivolti a Kant per riprendere il filo della riflessione occidentale sulla guerra e sulla pace fare della natura la gente che in ultima analisi si incarica di superare la guerra e di realizzare una condizione di perfetta convivenza fra gli uomini dentro e oltre i confini degli stati è stato tacciato di, cito provvidenzialismo razionalizzante questa citazione è tratta da un volume molto importante del 79 di Norberto Bobbio che si intitola Il problema della guerra e le vie della pace lo stesso giudizio ricorre nelle lezioni di preparazione a questo volume che sono state proprio quest'anno edite dalla terza quindi Bobbio parla a proposito dell'idea di provvidenzialismo razionalizzante per Bobbio la concezione della guerra che emerge da questo scritto cantiano si pone all'origine di tutte quelle filosofie della storia che giustificano parzialmente la guerra presentandola come un mezzo necessario in vista di un fine più alto sia esso la pace o il sommo bene nel mondo che la provvidenza perseguirebbe a vantaggio dell'umanità naturalmente questa lettura di Bobbio è funzionale alla sua idea che la guerra atomica abbia reso obsoleta la teoria cantiana e qui non intendo discutere la tesi di Bobbio ma cito semplicemente questo esempio perché lo ritengo emblematico di un modo caratteristico di fraintendere il discorso cantiano letture come quella di Bobbio mettono giustamente in evidenza che Cante è un autore di svolta perché ha concepito in maniera netta il nesso che lega la guerra al processo di civilizzazione ma nella interpretazione di Bobbio il processo di civilizzazione è immediatamente identificato con il progressivo raggiungimento da parte dell'umanità della sua destinazione morale questa impostazione occulta ciò che è realmente interessante nel discorso cantiano e cioè il nesso tra antagonismo e diritto rimuovendo una premessa essenziale per ricostruire questo discorso per Cante il progresso che comporta l'incremento di civilizzazione e la guerra come motore di questo progresso è completamente sganciato dalla dimensione morale il progresso segnato dalla civilizzazione umana per mezzo dell'antagonismo non rappresenta di per sé un bene e non comporta in nessun modo un progresso di tipo morale cito a questo proposito un noto brano tratto dalla settima tesi della idea per una storia universale da un punto di vista cosmopolitico questo non lo avete nell'hand out prima che quest'ultimo passo sia compiuto questa è la citazione kantiana cioè l'unione degli stati quindi quasi solo a metà della sua formazione la natura umana sopporta i mali più duri sotto l'apparenza ingannevole del benessere esteriore e Rousseau non aveva torto quando preferì lo stato dei selvaggi se si lascia da parte questo ultimo stadio a cui il nostro genere deve ancora sollevarsi tramite l'arte e la scienza siamo in sommo grado coltivati siamo civilizzati sino all'eccesso in ogni forma di cortesia e decoro sociale ma per ritenerci moralizzati ci manca ancora molto infatti l'idea della moralità appartiene anch'essa alla cultura ma l'uso di questa idea che miri solo a ciò che è simile alla moralità nel senso dell'onore nel decoro esteriore produce solo civilizzazione cultura civilizzazione fine della citazione questa totale divaricazione fra il processo di civilizzazione e il progresso morale dell'uomo non è una scoperta kantiana evocandolo probabilmente Kant non faceva che dichiarare il principale debito teorico da lui contratto con Rousseau sapete che Rousseau è stato un autore importante per Kant e certamente senza Rousseau non ci sarebbe una frase come quella che ho letto in perfetta aderenza con Rousseau Kant mette in evidenza che il raggiungimento di traguardi sempre più avanzati nella scienza e nella tecnologia rappresenta un passo avanti nell'incivilimento ma non significa in nessun modo un miglioramento della condizione morale dell'uomo tuttavia ciò non esclude che alcuni uomini sviluppino un senso morale più avanzato che fa loro vivere con disagio il processo stesso di civilizzazione il senso morale di un europeo del settecento e ancor più di noi uomini del ventunesimo secolo si è molto raffinato rispetto a quello di un nostro progenitore ai primordi della civiltà ma a fronte di questo aumento del senso morale sono aumentate anche le occasioni per constatare l'inutilità delle azioni improntate al bene ciò che fa disperare l'uomo morale non è il dubbio se Dio compenserà con un premio la sua moralità e non è la constatazione che l'uomo da che mondo è cattivo ciò che fa disperare l'uomo morale è la constatazione che è vero non si può migliorare che il mondo è come è sempre stato e che la sua azione morale non aumenterà di un solo grado la quantità di bene presente nel mondo il testo dell'Ecclesiaste è stato assunto da Kant come l'emblema di questo atteggiamento la cui disperata impassibilità Kant vede riaffacciarsi nell'opera Jerusalem di Moses Mendelssohn come testimone all'ultima parte dello scritto sul detto comune a proposito di questo stato unanimo c'è un passaggio molto bello e molto esplicito nell'inizio congetturale della storia degli uomini questo lo avete come seconda citazione del vostro handout l'uomo che pensa sente un dolore che può certo divenire persino corruzione morale di cui nulla sa l'uomo che non pensa e cioè insoddisfazione verso la provvidenza che regge per intero il corso del mondo quando soppesa i mali che tanto gravano il genere umano è come sembra senza speranza di miglioramento ma è della massima importanza essere contenti della provvidenza anche se proprio sulla nostra terra ci ha indicato un percorso così faticoso in parte per prendere sempre più coraggio fra le sofferenze in parte per non allontanare dagli occhi scaricando la colpa sul destino le nostre proprie colpe che probabilmente sono l'unica causa di tutti questi mali e per non trascurare i rimedi a essi che si trovano nel miglioramento di se stessi fine della citazione si deve partire da questa diagnosi sullo stato presente della morale europea per comprendere il significato del discorso kantiano il tentativo di dare un senso alla guerra che non è una giustificazione deve servire a contrastare qualcosa che ormai negli anni 80 del settecento si è ampiamente affermato l'abitudine a guardare al mondo come a un insieme di eventi caotici e senza governo basterebbe a questo proposito citare qualche pagina a caso del Candide di Voltaire contro questa visione lucidamente tragica del mondo che pure Kant riconosce e condivide egli mette un'opera un'operazione teorica che può inquadrarsi ancora una volta ricorrendo al suo rapporto con Rousseau Kant infatti non è stato soltanto un lettore attento di Rousseau ma anche colui che ha provato a sviluppare in senso nuovo la sconsolata di agnosi russoiana sul processo di civilizzazione nell'inizio congetturale della storia degli uomini che è un testo del 1786 Kant torna a citare Rousseau in maniera più articolata di come abbia fatto nella idea come si legge nella prima lunga nota dello scritto la produzione di Rousseau tiene assieme due immagini contrastanti dell'umanità Rousseau è l'autore del discorso sulle arti e sulle scienze e del discorso sull'origine della diseguaglianza che appunto hanno insegnato a Kant e continuano a insegnare a noi che c'è un'inevitabile opposizione della cultura intesa come il processo di civilizzazione con la natura del genere umano inteso come genere fisico da questa opposizione deriva in questi scritti una diagnosi negativa sul futuro sviluppo dell'intero processo di civilizzazione l'uomo si autoimpone nella compagine sociale una vita artificiale che lo priva della sua vera natura che invece nello stato precivile conformava la vita dell'uomo e gli assicurava un'innocenza ormai perduta per sempre tuttavia per Kant Rousseau è anche l'autore dell'Emilio e del contratto sociale opere che restituiscono tutt'altra immagine del rapporto fra natura e artificio in queste opere Rousseau assegna al processo di civilizzazione quindi a un indefinito incremento di artificio le uniche speranze perché l'uomo evolva in accordo con la sua destinazione morale Kant presenta dunque Rousseau come un autore ambivalente che non può ridursi né al teorico del buon selvaggio né al teorico della democrazia totalitaria Kant sembra apprezzare la capacità diagnostica di Rousseau ma la diagnosi di Rousseau va integrata da una concezione della storia che ha l'obiettivo di evitare di assolutizzare l'opposizione fra natura e cultura prospettando un futuro nel quale cito Kant sempre dalla congettura la perfetta arte diviene di nuovo natura quindi non c'è un'opposizione tra artificio e natura perché è lo stesso artificio che visto in un'ottica di perfezione ridiventa natura se si considera questo come l'obiettivo ultimo della destinazione etica dell'uomo allora è possibile relativizzare l'opposizione di natura e cultura a quel tempo sempre prossimo a svanire che è il tempo presente noi non possiamo escludere che il futuro della terra ci riservi uno stato civile planetario nel quale la natura svelerà i limiti dell'artificio umano e ripristinerà su un piano più avanzato quell'ordine pacifico che essa ha sempre perseguito anche una conclusione di questo tipo tuttavia non è priva di problemi si può consentire sul fatto che Kant non voglia identificare il processo di civilizzazione con il bene morale e che non voglia giustificare la guerra considerandola come un mezzo in vista di un fine superiore ma in ultima analisi confidare che il superamento della guerra e l'instaurazione della pace sia un risultato cui ci destina la stessa natura suona come una tesi che sembra avere a che fare più con l'edificazione che con la filosofia certo c'è bisogno anche di discorsi edificanti ma non c'è bisogno di leggere Kant per convenire che un futuro mondo pacificato è una prospettiva che ci piace e che sarebbe difficile non auspicare il punto da chiarire è comprendere perché Kant renda protagonista la natura di un processo che il nostro senso comune storicista in Italia ci ha abituato a considerare il prodotto eminente dell'agir umano cioè la politica cerco di delineare quindi cerco di diciamo sciogliere questo nodo cioè perché Kant sostitui fa protagonista di qualcosa che ha a che fare con la politica alla natura e cosa significa questo cerco di dare qualche linea teorica a questo proposito facendo riferimento a un'opera un po' più avanzata rispetto agli scritti che ho citato fino ad ora e cioè la critica del giudizio e in particolare il paragrafo 83 il paragrafo 83 della critica del giudizio in cui tutti questi temi trattati nell'idea sul detto comune nell'inizio congetturale vengono diciamo esposti in maniera teoricamente più rigorosa e precisa Kant parte da questo discorso e cioè che ogni organo e ogni organizzazione naturale esistono in vista di un fine tolto il quale diviene incomprensibile riferire loro l'aggettivo naturale il problema di Kant che è stato già un problema per Platone è comprendere a quale scopo l'uomo sia fornito della ragione come disposizione morale come disposizione naturale no? cioè l'uomo ha questa disposizione naturale che è la ragione a cosa serve questa disposizione naturale se noi poi di fronte allo spettacolo della guerra ci rendiamo conto che questa disposizione non è utilizzata definita la ragione come la disposizione a estendere regole e scopi dell'uso delle proprie forze oltre l'istinto naturale e posto che si veda in questa disposizione ciò che distingue l'uomo da altre classi animali il fine ultimo della natura è che questa disposizione sia in costante sviluppo questo fine ultimo qui Kant usa il termine l'espressione tedesca lezzetzvec fine ultimo va distinto nettamente dallo enzvec dallo scopo finale che è quel fino in sé che è l'uomo sotto la legge morale il quale invece non è inserito in nessuna teleologia naturale lo sviluppo della disposizione razionale invece può essere visto come un fine ultimo perché esso è la condizione perché si perseguano fini non dati come il fine morale di compiere il bene nel mondo quindi c'è una distinzione molto chiara in Kant tra fine ultimo e scopo finale lo scopo finale è l'uomo sotto la legge morale e questo è un fine in sé che non ha nulla a che vedere con la teleologia naturale la teleologia naturale invece ha a che vedere con il fine ultimo della natura qual è il fine ultimo della natura rispetto all'uomo alla sua razionalità sviluppare al massimo la capacità di proporsi fini non dati istintualmente la natura non ha alcun ruolo rispetto a fini in sé quindi non persegue una finalità morale ma è la condizione formale soggettiva della finalità cioè in generale l'idoneità a porsi fini che non siano già dati ciò che la natura incrementa anche contro altre disposizioni umane ugualmente naturali come la disposizione alla felicità è facile constatare che sebbene anche la felicità sia collegata alla nostra costituzione naturale essa non è ciò a cui siamo destinati dalla natura le catastrofi naturali sono un esempio fra gli altri del fatto che la natura non sembra collocare l'uomo in una posizione privilegiata rispetto a quella di qualsiasi altro animale e che le trasformazioni naturali possono ledere pesantemente il naturale desiderio di felicità che pure muove le azioni umane qualsiasi conflitto umano per quanto doloroso e distruttivo può essere visto come un mezzo per incrementare la cultura dell'abilità la cultura dell'abilità è appunto la capacità di proporsi dei fini non dati istintualmente questa cultura dell'abilità è il fine che la natura persegue rispetto all'umanità tutta e il massimo sviluppo della cultura dell'abilità è il diritto come adesso sto per mostrare la capacità di servirsi di forze naturali per offendere propri simili quindi di rendere alla natura un mezzo per l'artificiale barbaria della guerra si ritorce contro i calcoli dell'uomo gli uomini con la guerra soddisfano il loro desiderio di potere e sopraffazione senza essere coscienti del fatto che in questo modo diventano a loro volta mezzi di una natura che segna per loro un destino diverso da quello che loro immaginano la guerra è una delle forme che assume questa eterogenesi dei fini confermando il fine ultimo che la natura persegue con l'antagonismo sviluppare al massimo in quella classe animale che pure è l'uomo la capacità di proporsi fini non istintuali con questo Kant non sta pensando alle innovazioni tecnologiche che l'arte della guerra porta con sé ma a quella peculiare realizzazione della cultura dell'abilità che è la politica e il diritto questo è un punto essenziale per comprendere il discorso kantiano Kant non dice quindi che la natura persegue il sommo bene nel mondo non c'è nel pensiero di Kant una identificazione del processo di civilizzazione con il bene morale e la guerra non è il mezzo in vista di questo fine ciò che la natura persegue con il suo meccanismo è l'allestimento delle condizioni per cui quel fine in sé che è l'uomo sotto la legge morale possa produrre il suo effetto nel mondo e qual è l'effetto del mondo dell'uomo sotto la legge morale il sommo bene l'incremento della cultura che il conflitto determina non è un fine in sé il fine in sé è appunto l'uomo sotto la legge morale fatto questo diciamo dati tutti questi presupposti che riguardano il rapporto che lega teleologia naturale guerra e incremento della cultura dell'abilità passiamo adesso al concetto di stato di natura e che cosa significa per Kant stato di natura è uscita dallo stato di natura questa seconda parte si intitola un nuovo concetto di diritto di natura la filosofia politica di Kant è spesso interpretata come il culmine del giudnaturalismo d'epoca moderna secondo questa linea interpretativa gli scritti di Kant dedicati al diritto e alla politica si inserirebbero in una linea teorica che prende avvio con Hobbes e che prosegue nelle opere di Locke e di Rousseau al netto delle differenze su singole questioni tutti questi autori condividerebbero una visione sostanzialmente affine del diritto naturale sebbene l'uomo sia per natura titolare di diritti soltanto nello stato civile e soltanto dopo che un contratto abbia sancito l'abbandono dello stato di natura l'uomo fruisce effettivamente dei suoi diritti prima di allora proprio la generalità dei diritti che ognuno per natura possiede il primo dei quali è per Hobbes il diritto a tutelare la propria vita e impedire che altri la mettono in pericolo fa dello stato di natura uno stato di guerra o di permanente minaccia di esso questa impostazione viene abitualmente attribuita anche a Kant e con essa le principali difficoltà teoriche che si porta dietro ne indico due che mi sembrano le principali in primo luogo l'abitudine a sovrapporre la nozione di stato civile a quella di stato sovrano e quindi l'idea che sia il potere legislativo dello stato a superare effettivamente l'anomia che regna nello stato di natura apre diciamo il fatto di identificare lo stato civile con lo stato politico apre il problema dei rapporti fra legge naturale e legge positiva poiché si fa coincidere lo stato civile con lo stato politico il superamento dello stato naturale si interrompe ai confini dello stato questo è il secondo problema fuori da questi confini continua a vigere lo stato di natura perché fuori dallo stato sovrano non c'è una legislazione che possa imporre leggi che rendano effettive le rivendicazioni legate al diritto naturale in definitiva anche nella teoria giuridica e politica di Kant a somiglianza di quanto vale per i predecessori primi indicati si assisterebbe al paradosso di un diritto naturale che ha bisogno della legge positiva per esistere e che contro la sua stessa definizione smette di esistere appena si giunge al confine statale a mio parere Kant ci fornisce una teoria che mira precisamente a superare entrambi i problemi e per capirlo bisogna partire dalla definizione stessa di diritto a questo scopo darò adesso qualche cenno su questa definizione servendomi dell'esposizione contenuta nei primi principi metafisici della dottrina del diritto che invece è un'opera del 1797 qui non potrò che toccare soltanto alcuni aspetti di una concezione che è molto complessa e che per essere giustificata in ogni suo aspetto dovrebbe partire dalla fondazione della metafisica dei costumi quindi molte cose di quelle che dirò adesso nei prossimi cinque minuti potrebbero non apparirvi chiarissime vi invito quindi a segnarlele e magari le affrontiamo durante la discussione il diritto per Kant è il concetto delle condizioni per le quali l'arbitrio di ognuno coesiste con l'arbitrio dell'altro secondo una legge universale abitualmente si legge questo principio immaginando che Kant voglia dire che dato un insieme di agenti che secondo arbitrio perseguono fini differenti è necessario imporre una legge che limiti le esigenze di ognuno in realtà l'arbitrio a cui si riferisce Kant non è la possibilità di scegliere fra le alternative dei propri desideri ma è l'arbitrio libero che in quanto tale è determinato da una legge morale secondo autonomia come nel caso dell'azione morale anche nel caso dell'azione di diritto non si prende dunque in considerazione la materia dell'arbitrio ossia il fine che rimanda a un'intenzione dell'agente l'azione di diritto è considerata semplicemente come forma e come la forma propria del rapporto esterno fra arbitri la forma di questo rapporto è l'azione reciproca la quale fa vigere la libertà dell'arbitrio nel rispetto della libertà d'arbitrio di un altro la legge non va quindi pensata come un'istanza terza che limita i rispettivi desideri ma come la regola di una reciprocazione che determina la libertà della persona esternamente definito in questo modo il diritto il non diritto ossia l'illecito si definisce come un impedimento alla libertà secondo leggi generali ovvero come tutto ciò che fa resistenza all'azione reciproca da questo segue che il diritto è legato per il principio di non contraddizione alla prerogativa di costringere infatti ogni volta che alla coesistenza del diritto si frappone un impedimento alla reciprocità dell'azione la costrizione quello che in tedesco è zwang si oppone a questo impedimento e fa resistenza a quell'impedimento al diritto che è l'illecito in altri termini costringere ossia resistere a ciò che impedisce il diritto è una prerogativa ricavabile analiticamente dalla prerogativa di rivendicare un diritto rivendicare un diritto è identico a costringere chi non lo rispetta bisogna però stare attenti a non identificare il fondamento del diritto con la costrizione come fa Hegel quando commenta Kant ciò che fonda la relazione di diritto non è la costrizione ma la libertà che quando viene espressa come rapporto esterno è un'azione reciproca che costringe l'arbitrio di qualcuno se questo qualcuno non entra con l'altro in una relazione di rispetto ossia se non si fa determinare dalla dipendenza dalla reciprocazione questa concezione trova la sua piena definizione con la nozione di strichte recht diritto stretto che è contenuto nel paragrafo E della introduzione alla dottrina del diritto questa nozione non va depotenziata e interpretata come un altro modo per dire diritto strettamente inteso stretto richiama la dipendenza reciproca dei soggetti di diritto e l'immediatezza con cui si impone la determinazione del diritto tale immediatezza si esprime tramite due principali caratteristiche la prima è l'esteriorità della determinazione del diritto che consente di distinguere questa determinazione dalla determinazione etica non c'è bisogno nel caso del diritto di una molla interiore come invece è necessario in ambito etico perché il soggetto del diritto sottoponga la sua massima a una legge universale la seconda è la reciprocità della costrizione la rivendicazione del diritto quindi l'utilizzo da parte di un primo soggetto della prerogativa della costrizione è immediatamente collegata alla costrizione che lo stesso soggetto può subire diritto stretto è dunque l'idea che la legislazione universale che regola la coesistenza dei diritti si realizzi senza un'adesione interiore dei soggetti partecipanti e senza la necessità di identificare la legge con il comando di un agente la legge è piuttosto la regola che diciamo regge la reciprocità dell'azione il testo della dottrina del diritto che ha un'esposizione di tipo dogmatico e non critico non aiuta molto a capire su cosa Kant fonda il suo discorso la giustificazione teorica va cercata nella filosofia practico universalis che si trova nella introduzione dell'opera che deve bastare a convincerci che l'arbitro è libero e soprattutto che l'arbitro abbia una esteriorità propria a questi elementi fondativi che Kant presuppone la notazione al paragrafo e aggiunge un ulteriore elemento che a mio parere qualifica in senso specifico il discorso kantiano vi ricordo che stiamo cercando sempre di capire in che senso la nozione kantiana di diritto si distingue dalla tradizione giustnaturalistica in questo senso vi propongo la lettura della terza citazione questa terza citazione dice la seguente cosa la legge di una coazione reciproca che si accorda necessariamente con la libertà di ciascuno sotto il principio di una libertà universale è per così dire la costruzione costruzione è un termine tecnico di quel concetto cioè la sua esibizione da Ashtellung in una intuizione pura a priori secondo l'analogia della possibilità dei movimenti liberi dei corpi sotto la legge dell'uguaglianza dell'azione e reazione così come noi nella matematica pura non ricaviamo immediatamente le proprietà del suo oggetto dal concetto ma possiamo scoprirle soltanto tramite la costruzione del concetto così non è tanto il concetto del diritto quanto piuttosto la costruzione costantemente reciproco è uguale che è riportata a legge universale coincide con il diritto a rendere possibile l'esibizione di quel concetto poiché però a fondamento di questo concetto dinamico nella matematica pura per esempio nella geometria ce n'è ancora uno meramente formale la ragione ha avuto cura di dotare di intuizioni a priori l'intelletto per quanto possibile anche per la costruzione del concetto del diritto scusate la lunga citazione non è necessario che voi abbiate diciamo chiaro tutto quello che ho appena letto l'importante è che voi abbiate l'impressione che qui Kant sta facendo un discorso in cui mette in parallelo una legge costruita con uno schema fisico-matematico e il diritto il concetto del diritto è qui espresso come una costruzione ossia come la rappresentazione di un concetto intellettuale in una intuizione a priori in una intuizione spaziale l'uguaglianza di azione e reazione è ciò che consente di esporre come un'intuizione il suo di ognuno dove suo di ognuno è un'espressione kantiana per dire il diritto che spetta ciascuno e per suo aggiungo non deve intendersi soltanto il possesso di una cosa ma in generale il diritto legittimo in questo modo il diritto è una prerogativa rivendicata che costringe immediatamente ciò che fa resistenza all'azione reciproca la ragione può esibire la determinazione di diritto in maniera infallibile evitando come si chiarisce nel seguito della trattazione kantiana il cosiddetto diritto equivoco la determinazione della realtà del diritto tramite l'uguaglianza di un'azione reciproca non è soltanto una metafora in questo caso ci troviamo di fronte a una delle più antiche acquisizioni del pensiero di Kant che inevitabilmente ci obbliga a guardare oltre il diritto e la politica intesi come componenti della filosofia pratica sin dalla sua prima pubblicazione Kant ha attribuito alla terza legge del moto dei principi di Newton un ruolo fondamentale per fondare la meccanica dei moti liberi dei corpi fisici e prendere così congedo sia dalla tradizione leibniziana sia dalla tradizione cartesiana la terza legge di Newton dice come noto che per ogni azione c'è sempre una reazione uguale e contraria e che le azioni che due corpi esercitano l'uno sull'altro sono sempre uguali e opposti nella direzione inoltre il corollario 4 della legge di Newton afferma che il centro di gravità di due o più corpi non cambia il suo stato di moto di quiete come risultato delle reciproche azioni dei corpi e perciò il centro comune di gravità di tutti i corpi che agiscono l'uno sull'altro o inquiete o si muove in maniera rettilinea uniforme la statica si fonda così su una legge meccanica che a sua volta si fonda sulla dinamica dell'attrazione da questa acquisizione della fisica il Kant precritico ricava una ridefinizione completa dei principi della cosmologia e del rapporto fra metafisica e cosmologia dopo la critica della ragion pura e dopo i primi principi metafisici della scienza della natura il concetto di azione reciproca non avrà più nulla a che vedere con il rapporto che esiste tra l'unità dell'esistenza divina e il mondo ma questo non elimina un'idea di fondo che Kant continua a utilizzare per definire l'idea stessa di diritto pubblico la formazione degli stati può essere pensata in analogia con la formazione dell'universo così come i pianeti si formano quando una nebulosa di materia si stabilizza attorno a una forza centrale allo stesso modo uno stato ha la sua origine con la costituzione di un potere prevalente la costituzione di uno stato attorno a un potere prevalente può essere del tutto casuale e il potere prevalente può essere qualcosa che impedisce l'uguaglianza dell'azione reciproca ossia fuori dall'analogia con la fisica può essere un potere imposto con violenza ma la regolarità della reciprocità di azione consente di configurare l'annullamento di un impedimento che può essere superato tramite gli stessi effetti meccanici che l'hanno generato detto in altri termini e in maniera formulare il miglioramento delle costituzioni degli stati è concepito come un processo di reciprocazione che evolve verso forme più avanzate di equilibrio statico l'impedimento alla reciprocità dell'azione è motivo di un esquilibrio nelle organizzazioni naturali che quella stessa organizzazione è in grado di compensare e di portare a equilibri più avanzati perché si dia equilibrio in un sistema complesso è sufficiente la legge ed è la natura stessa a incaricarsi di mostrarlo se consideriamo l'evoluzione delle costituzioni statali come il progresso verso questo obiettivo ho ancora dieci minuti resistete ancora dieci minuti perché fatti questi cioè visto lo sfondo morale che c'è dietro l'idea di pace e di guerra vista l'idea del raggiungimento del miglioramento della costituzione come qualcosa che da Kant è pensato in analogia con il discorso fisico con la realtà fisica vorrei dire per dieci minuti non di più il modo in cui da Kant è pensato il passaggio dallo stato naturale allo stato civile quindi la terza e ultima parte dell'incontro di oggi si intitola appunto stato naturale stato civile il legame tra teleologia naturale e politica che prima abbiamo segnalato come un problema ma sta tutto in questa fondazione razionale dell'azione reciproca che su questo fondamento può essere assunta come un principio valido non soltanto per la natura fisica ma anche per la natura morale la natura che consente anche a Kant di parlare di diritto naturale è una natura formale che trova la sua materia corrispondente non nei desideri degli uomini ma nel rispetto ossia nella possibilità di rivendicare un diritto e di costringere chi lo impedisce esiste un diritto naturale perché è possibile giudicare la natura tramite il giudizio riflettente come un meccanismo che assicura l'uguaglianza dell'azione reciproca questa reciprocità non è giudicabile con un criterio morale cioè non è di per sé né buona né cattiva ma non rende impossibile pensare che un tale meccanismo sia in grado di eliminare ciò che ne ostacola il funzionamento in questo modo Kant può presentare un modello che riprende in senso nuovo la dottrina moderna dell'uscita dallo stato di natura l'uscita dallo stato di natura non è affidata ai dispositivi artificiali che l'uomo allestisce ma può essere concepita come un processo che la natura stessa procura l'obbligo a uscire dallo stato di natura non si fonda sulla contrapposizione fra la natura e l'utile umano ma è il modo in cui l'azione reciproca che è il diritto porta il principio statico che regge la convivenza umana a equilibri più avanzati posto infatti che l'azione reciproca è valida a priori tanto per gli eventi fisici quanto per l'azione di diritto la rivendicazione del mio può diventare qualcosa che viene per così dire indotta dalla natura stessa ci sono molti luoghi della dottrina del diritto in cui il testo di Kant può sembrare una mera ripetizione di quello che si legge nel paragrafo 13 del primo libro del De Cive qui cito un testo del paragrafo 44 del diritto pubblico in cui sembra letteralmente Hobbes in brani come questi diciamo noi non riusciamo a ricavare nessuna che vi evito appunto perché è un po' lungo non riusciamo a ricavare nessuna differenza tra Kant e la linea che io diciamo indico in Hobbes come autore emblematico però i brani come quello che si trova nel paragrafo 44 della dottrina del diritto non sono gli unici che chiariscono la dottrina kantiana dello stato civile e dello stato naturale bisogna rivolgersi ad altri brani ed in particolare al brano che voi trovate come quarta citazione che è diciamo il modo in cui Kant critica il suo autore cioè Gottlieb Achenwald che è l'autore che lui utilizza a lezione per fare lezione sulla filosofia del diritto cioè lo ius naturi in usus auditorium pas posterior è il manuale di Achenwald che lui utilizza ecco quando noi ci dedichiamo al rapporto con Achenwald abbiamo una maggiore luce su qual è la peculiarità della dottrina kantiana del rapporto tra stato naturale e stato civile quindi leggiamo rapidamente la quarta citazione che dice la somma di visione del diritto naturale non può essere come spesso accade quella tra diritto naturale e diritto sociale ma deve essere quella tra diritto naturale e diritto civile il primo dei quali è chiamato il diritto privato il secondo il diritto pubblico allo stato naturale infatti non è opposto lo stato sociale ma quello civile perché in quello si può ben dare società ma nessuna società civile che assicuri il mio e il tuo mediante leggi pubbliche e perciò il diritto nel primo si chiama diritto privato trascuro la citazione numero 5 che dice più o meno le stesse cose e arrivo al punto perché Kant non contrappone diciamo come spesso accade stato sociale è stato naturale ma oppone stato naturale e stato civile il motivo è che anche nello stato di natura si danno società come la società familiare o la società domestica la società della casa la distinzione fra stato di natura e stato civile non fa dunque riferimento al fatto che l'uomo abbandoni uno stato di previsolamento per entrare in una situazione sociale ma ha un'altra ha a che fare con un'altra caratteristica dello stato civile che prescinde totalmente dall'instaurazione della società quel che distingue lo stato naturale dallo stato civile è la vigenza in quest'ultima di una giustizia distributiva che nel paragrafo 41 sempre della dottrina del diritto Kant distingue dalla giustizia tutrice giustizia tutatrix e dalla giustizia commutativa giustizia commutativa quindi lì lui fa una partizione fra queste tre tipologie di giustizia e dice ciò che rende lo stato civile effettivamente civile non è il fatto che si sia in società ma il fatto che viga una giustizia distributiva a differenza delle prime due forme di giustizia la legge regolata dalla giustizia distributiva è quella che assicura a ciascuno il suo su un cuico e tribuere come recita la formula di Ulpiano ossia dà sanzione esterna al diritto che ogni uomo possiede in maniera innata e stabilisce ciò che è di diritto riportando la rivendicazione che il soggetto di diritto sottopone a un tribunale alla sfattispecie di legge non si deve con questo intendere un riferimento meramente all'amministrazione della giustizia ma alla giustizia come tale ossia l'idea che la volontà comune che unisce una comunità di uomini sia regolata dal diritto il paragrafo 41 inoltre arricchisce la tassonomia dei diversi possibili stati definendo lo stato sociale come uno stato artificiale quindi stato sociale è ancora stato naturale e può essere però visto a sua volta anche come stato artificiale quello che effettivamente distingue tutti questi stati l'uno dall'altro e che ci consente di parlare di stato civile è la giuridicità dello stato cioè uno stato nel quale si instaura una reciprocità di azione secondo uguaglianza che realizza la giustizia distributiva tanto lo stato di natura quanto quello stato artificiale che è lo stato sociale non sono uno stato civile perché in entrambi manca ciò che qualifica lo stato civile ossia la giustizia distributiva la vigenza di questo tipo di giustizia definisce la giuridicità di uno stato in diversi luoghi della metafisica dei costumi ma anche sul detto comune canta equipara stato civile e stato giuridico il fatto che lo stato civile sia propriamente lo stato giuridico non significa che nello stato di natura non ci sia diritto nel diritto naturale la prerogativa che ognuno ha di costringere l'altro nel senso di impedirli di violare il proprio diritto è però solo presuntiva e vale come giuridica soltanto comparativamente il diritto al mio che ognuno rivendica è intrinsecamente giuridico nel senso che la pretesa che il mio diritto venga riconosciuto quindi la mia prerogativa a costringere l'altro comporta il riconoscimento di un'analoga prerogativa da parte di altri rivendicando un diritto sto dunque invitando l'altro a entrare con me in uno stato giuridico tale rivendicazione tuttavia è unilaterale così come è unilaterale la volontà di che volesse negarmi il mio diritto perché si superi questa situazione di unilateralità rispettiva è necessario che la reciprocità del diritto sia affidata a una volontà generale dotata di potere la volontà generale dotata di potere rende la tutela del mio diritto perentoria perché in questo stato la reciprocità e uguaglianza della costruzione è assunta come lo stato proprio della convivenza tra persone ossia esseri liberi a questo punto quindi arriviamo all'ultima citazione che descrive il modo in cui effettivamente Kant pensa l'uscita dallo stato di natura io questo modo peculiarmente kantiano lo trovo al paragrafo 42 della dottrina del diritto e se avete un po' di pazienza direi anche su questo rapidamente un paio di cose allora leggiamo l'ultimissima citazione quindi avete capito che ciò che peculiarmente rende lo stato civile tale è la giuridicità la giuridicità può esistere anche nello stato naturale ma nello stato naturale è soltanto presuntiva non è perentoria io ho effettivamente un passaggio allo stato civile quando c'è la perentorietà dell'efficacia del diritto quando ho questa situazione sono in una situazione di diritto pubblico domani vedremo la distinzione kantiana tra diritto privato e diritto pubblico oggi la lasciamo da parte però appunto in questa citazione che faccio adesso Kant fa riferimento al diritto pubblico e dice dal diritto privato nello stato naturale deriva ora il postulato del diritto pubblico anche su questo se volete durante la discussione torniamo a parlare cosa significa postulato eccetera in relazione a una inevitabile coesistenza tu devi passare con tutti gli altri da quello in uno stato giuridico ossia in uno stato di giustizia distributiva la ragione di ciò la si può elaborare analiticamente a partire dal concetto del diritto nel rapporto esterno come l'opposto contraddittorio qui traduco un po' liberamente perché lui dice in gegensatz però lì il concetto è il concetto di contraddizione come l'opposto contraddittorio della violenza allora non intendo imbarcarmi adesso in una discussione dettagliata di cosa significa postulato ma solo soffermarmi sull'opposizione tra violenza e uscita dallo stato di natura uscire dallo stato di natura significa riconoscere che la relazione esterna di enti liberi conferma anche a livello esteriore quel che la determinazione della legge morale conferma a livello interiore ossia che l'ente morale è libero nella esplicazione del testo del paragrafo che qui purtroppo appunto evito di citare Kant presenta la situazione di non giuridicità dello stato di natura e fa un'osservazione che a mio parere fa comprendere la peculiarità della sua concezione del passaggio dallo stato di natura allo stato civile nello stato di natura nessuno ha tenuto ad astenersi dall'appropriarsi del possesso dell'altro se l'altro a sua volta non dà al primo sufficiente sicurezza del fatto che il suo possesso non subirà danno Kant commenta che il primo cioè chi rivendica un diritto non ha bisogno di attendere l'atto stile dell'altro e fare esperienza della violenza altrui per sapere che lui stesso ha l'impulso di diventare padrone dell'altro e dunque quindi c'è una dinamica di servo padrone per chi fra di voi si occupa di Hegel che è pensata a livello interiore dove la persona che rivendica il diritto è al tempo stesso il lato negativo del discorso perché tende a essere padrone cioè a voler imporsi sull'altro cioè Kant dice io non ho bisogno di aspettare l'atto violento dell'altro per sapere che io stesso potenzialmente sono capace di atti violenti quindi è una specie di dinamica servo padrone completamente interiorizzata e dunque il superamento del padrone che ognuno è potenzialmente è l'accettazione che lo stato naturale dei rapporti tra liberi e la reciproca costrizione a costituire l'uscita dallo stato di natura Kant infatti aggiunge è autorizzato a costringere l'altro che già lo fa per sua natura due uomini che non escono da uno stato di natura compiono reciprocamente un illecito non perché si combattono ma perché permangono in uno stato non giuridico quasi ci fosse un accordo di entrambi in vista di ciò lo stato di natura è uno stato di guerra ossia uno stato di assenza di diritto quando si verifica la volontà di confermare un'assenza di giuridicità che è smentita dalla natura stessa delle cose e che è il risultato del maggiore degli artifici umani cioè questo permanere nello stato di natura nella prospettiva di Kant è in realtà il risultato di un artificio umano che è quello che propriamente si chiama violenza questo secondo me ne possiamo discutere costituisce una ridefinizione compiuta dei concetti di stato di natura e di stato civile lo stato di natura non è uno stato posto cronologicamente prima dello stato civile e che si possa far coincidere con tempi primordiali dell'umanità anche i civilissimi stati dell'Europa del Settecento sono secondo la prospettiva kantiana in uno stato di natura fino a quando il loro stato rimane quello della reciproca minaccia di guerra questa permanenza della guerra è necessaria da un punto di vista kantiano assolutamente no e non lo è non per un'aspirazione morale ma perché la stessa natura impone l'uscita da uno stato non giuridico la dimensione del futuro e la prospettiva di uno stato civile che riguardi anche il reciproco rapporto fra stati diviene così una componente essenziale del concetto di diritto naturale l'uscita dallo stato di natura non è il prodotto dell'artificio umano ma di una natura che come abbiamo detto alla fine dei tempi giungerà a mostrare la coincidenza fra il perfetto artificio e la natura per oggi mi fermo qua grazie grazie veramente veramente illuminante grazie mi scuserete se ho messo come si suol dire molta carne al fuoco però appunto avendo a disposizione tre giorni io mi auguro che si possa lavorare anche con molti materiali però davvero vi invito siccome so perfettamente che molti passaggi sono stati rapidi che sicuramente avete avuto l'impressione che saltavo di palinfrasche eccetera quindi sentitevi liberi di fare domande anche molto basiche molto semplici e puramente esplicative sì adesso apriamo il dibattito è stato un bel passaggio tra moltissimi iscritti kantiani è anche un completo superamento della visione di Solari insomma a questo momento stavo pensando a quel testo di Solari che è il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale dove appunto si fa questo Solari porta avanti tutta l'idea del giusnaturalismo e alla fine conclude con questo giusnaturalismo politico di Kant e c'è proprio nella tua relazione c'è proprio un superamento diciamo della visione di Solari perché cambia il concetto di Stato di Natura in Kant esatto io ho l'impressione che ci sia molto ancora da cioè i testi kantiani c'è ancora moltissimo da interrogare ora per carità ci sono grandissimi esperti del Kant giuridico e politico che hanno già lavorato molto su questo però in particolare sulle differenze tra Kant e il giusnaturalismo della prima età moderna secondo me non si è fatto ancora abbastanza chiarezza come faccio io a fare un po' più di chiarezza su questo utilizzando la fisica utilizzando infatti era bellissimo il passaggio all'ultimo testo che hai fatto al testo del 1796 questo rapporto diritto fisica cioè lì c'è una una concezione del meccanicismo che è una concezione newtoniana certo che non c'è in Hobbes che in Rousseau a Rousseau non gli interessava relativamente invece qui c'è un autore che secondo me ha capito che certe categorie della modernità sono usurate e che di fronte a un uso pervasivo della guerra non sono diciamo più idonei perché l'idea appunto che si superi lo stato naturale all'interno dello stato e poi fuori dallo stato questo stato naturale permane lo vedremo nella terza lezione come Kant fa non funziona più perché se è davvero così cioè se la natura umana è destinata a essere civile all'interno dei confini dello stato e in civile fuori non è una natura umana nella prospettiva kantiana questo è il punto prego sempre perché altrimenti da casa non li sentono facciamo anche lo spostamento dei microfoni si ci vuole se vuole ci metto qua sembra un po' un confessionale allora si sente? no? si? ok grazie innanzitutto molto interessante devo dire avrei in realtà tre domande per il momento comunque insomma anche abbastanza semplice diciamo mi sembrava molto efficace la distinzione che faceva tra l'ambito dello sviluppo diciamo politico e la questione del sommo bene della moralità perché in effetti Kant le distingue spesso un po' si perde questa distinzione però in proposito volevo chiederle c'è però effettivamente sembra un ambito in cui la moralità si realizza nella storia e collettivamente che riguarda la religione e non la politica e volevo sapere appunto cosa ne pensava e poi allo stesso tempo appunto sono d'accordo con col fatto che Kant distingua lo sviluppo del sommo bene e lo sviluppo politico allo stesso tempo è vero che quando appunto come lei faceva riferimento al fatto che però la realizzazione diciamo dello sviluppo politico civile conduce a realizzare le condizioni dello sviluppo morale e allo stesso tempo appunto quando Kant dice si toglie la più grande opposizione alla moralità che è la guerra quindi effettivamente questo viene poi quindi forse reinserito in una teleologia ulteriore che è quella che termina però effettivamente con lo scopo in sé con lo scopo finale che poi realizza la moralità quindi in un certo senso indirettamente in modo del tutto indiretto però forse anche lo sviluppo politico lo sviluppo del diritto alla fine arriva a realizzare è un modo in cui si realizza il sommo bene e ecco volevo sapere insomma cosa ne pensava volevo anche io chiedere qualcosa in più su questa questione del meccanicismo che mi sembra molto interessante io non sono un grande esperto per niente insomma del diritto kantiano però effettivamente mi sembrava originale questa lettura che fa riferimento alla diciamo al particolare alla questione dell'azione e reazione insomma anche il rapporto forse appunto come lei citava gli scritti appunto la storia universale della natura del cielo eccetera eccetera lì kant è anche l'unico argomento insomma lì kant effettivamente ha questo tentativo di emendare l'argomento fisico-teologico pensando un meccanicismo che però ha un significato ulteriore lì è il meccanicismo che non nega l'esistenza di Dio anzi la conferma come a tenere cerca di tenere insieme qualcosa che tradizionalmente dice no non si tiene insieme ecco mi sembrava che forse in un certo cioè qui cambia completamente l'impostazione però nella lettura che dava lei se ho capito c'è una specie di lettura in un certo senso meccanicistica dello sviluppo dell'uscita del diritto però appunto in un senso completamente diverso diciamo e vabbè non so comunque se poteva dire forse meccanicistica è sbagliato però ecco con questo meccanismo dell'azione ripensato diciamo con un significato ulteriore e basta grazie grazie mille sì lei ha toccato due tre punti centrali e in realtà appunto tutte le sue domande vertono secondo me su un unico problema cioè noi siamo abituati a pensare a Kant come al filosofo della coscienza morale della legge morale della autonomia della responsabilità individuale poi appunto uno prende l'idea o prende sul duetto comune e c'è l'affermazione che la destinazione dell'umanità è affidata alla natura e che il meccanismo del conflitto compreso il meccanismo delle guerre è qualcosa che realizza il destino dell'umanità indipendentemente dalle scelte dell'umanità dopo domani parleremo della garanzia della pace perpetua dove si dice che il soggetto di tutte queste azioni della il soggetto della storia umana è una cosa che si chiama natura virgola destino virgola provvidenza allora giustamente Bobbio dice ok qui ci troviamo di fronte ad un'impostazione che poi fino a Hegel con Hegel poi avrà uno sviluppo diciamo clamoroso del provvidenzialismo razionalizzante dove tutto sommato il mondo è un mezzo in vista di un fine superiore e ce lo dobbiamo fare piacere perché anche la politica di potenza fa parte di questa allora io ho provato a sciogliere un po' questa cosa qui perché diciamo è possibilissimo che ci sia un'incongruenza una incapacità del filosofo di tenere assieme due cose diverse però nella mia piccola esperienza di lettore se qualcosa non si capisce di un grande classico la colpa è mia non del grande classico allora come cerco io di superare questa distinzione così questa contraddizione così clamorosa io diciamo cerco di superarla innanzitutto assegnando il sommo bene e la realizzazione del sommo bene all'azione morale punto non c'è lo Stato che realizza il sommo bene e il sommo bene non è il diritto il sommo bene è l'unione di virtù e felicità che con il superamento dell'antinomia della ragione pratica nella seconda critica cantina si raggiunge quando io arrivo ad essere felice perché sono stato virtuoso questo è il massimo di bene che si può raggiungere nel mondo cioè il singolo che agendo aumenta la quantità di bene nel mondo questa cosa qui non la fa lo Stato non la fa il diritto la fa quell'ente razionale che è l'uomo che a differenza dell'animale riesce ad agire secondo criteri di perfezione questa capacità della ragione umana non ha nulla a che vedere con il mondo fisico cioè la natura morale dell'uomo è qualcosa di sganciata dalla natura fisica ora Kant ma non c'è bisogno cioè Kant come Seneca e come tutta la grande tradizione antica quando parlava di natura e quando parlava di natura morale non vedeva diciamo la sconnessione totale dalla natura fisica cioè questi sono tutti autori che tentano di trovare un punto di contatto tra natura morale e natura fisica allora questo ente morale che è capace di fare il sommo bene è capace anche però di stare in un mondo in cui la condizione per realizzare il sommo bene è la sua condizione esterna l'esteriorità della mia azione è fatta di un ordine delle cose che conferma l'azione non la realizza cioè non è l'ordine esteriore che realizza ma io come ente morale posso vedere in questo ordine esteriore una conferma del fatto che il mondo è stato concepito con un'intenzione morale questa capacità di leggere il mondo in questa maniera ha un riscontro fisico fisico-meccanico no perché noi qui ci stiamo muovendo in una prospettiva che è quella del giudizio riflettente quindi ci stiamo muovendo in una prospettiva nel quale non è la natura fisica che fonda la natura morale ma è una prospettiva nella quale il metafisico fonda sia il fisico che il morale cioè bisogna completamente ribaltare la prospettiva e capire che in questo Kant dalla critica del giudizio e degli scritti degli anni 80 si ripristina una cosa che è chiarissima anche nel Kant precritico cioè è chiarissimo che i principi metafisici fondano tanto i principi fisici quanto i principi morali allora cosa c'entra tutto questo con il diritto alla politica c'entra perché se io diciamo ritengo che l'azione morale è semplicemente la bizzarria della mia coscienza posso avere un atteggiamento nei confronti del mondo se invece io penso che il mondo confermi la necessità che è legata alla realizzazione del sommo bene allora io posso diciamo relazionarmi nei confronti del mondo in maniera diversa cioè per questo io sono partito con la questione della splendida miseria della miseria brillante e ho provato diciamo a darvi qualche cenno sui presupposti morali perché il tema di Kant è un tema prima di tutto di teodicea cioè il suo problema è giustificare lo stesso agire morale sulla base di un ordine metafisico del reale che è una conferma pratica di realtà pratica dello stesso agire morale allora la seconda questione che diceva lei quindi sostanzialmente qui stiamo parlando di meccanicismo stiamo parlando di qualcosa di meccanico qui stiamo parlando di principi metafisici e in particolare del principio dell'azione reciproca i quali possono avere una ricaduta sia morale sia fisica cioè l'azione reciproca è fondata metafisicamente ed è diciamo il principio dell'unità dell'intelletto divino dell'intelletto archetipo che fonda sia l'azione reciproca fisica sia l'azione reciproca di diritto quindi non c'è una riduzione meccanicistica di un discorso morale perché uno potrebbe dire vabbè allora tutto questo guazzabuglio poi alla fine finisce con un fisicalismo di Kant per cui Kant è qualcuno che sta dicendo che alla base della realtà c'è un'azione reciproca che vale per la terza legge di Newton così come per i il punto di Kant è far capire che anche la terza legge di Newton ha una fondazione metafisica e questa fondazione metafisica si può costruire così come si costruiscono i teoremi matematici naturalmente si può costruire in ambito di diritto in un ambito nel quale Kant deve appunto costruire un'oggettività etica che è quella poi della legalità io prima mentre rispondevo ho dimenticato di dirle che il punto fondamentale per capire anche questi passaggi kantiani è tenere presente questo parallelismo continuo che è a Kant tra la moralità e la legalità per cui la legalità non è altro che la proiezione il corrispettivo esterno di ciò che è morale dove quando io parlo di esterno sembra che stia usando una metafora in realtà il concetto di esteriorità è legato alla spazialità cioè qui abbiamo dei principi metafisici che nel diritto sono capaci di diventare principi esterni cioè principi costruttivi della nozione stessa di spazio e allora domani lo vediamo con l'idea di repubblica e con l'idea di costituzione perfetta è come se Kant dicesse c'è lo spazio proprio della ragione morale e lo spazio proprio della ragione morale è lo stato futuro dell'umanità e il fatto che il presente sembri smentire questo fatto in una prospettiva razionalistica non conta perché in una prospettiva razionalistica ciò che conta è la realtà pratica la realtà pratica di un'idea la quale realtà pratica di un'idea non è qualcosa di esperibile non è un fatto ma è il modo in cui noi agiamo questo è quello che mi sentirei di dire non so se le ho risposto quindi diciamo in buona sostanza io credo che molte delle apparenti contraddizioni kantiane non vadano attribuite alla coerenza del suo pensiero ma a un nostro modo sbagliato di interpretare alcune cose sue prego allora prego salve buonasera grazie per la per la relazione io volevo chiedere un chiarimento sull'analogia che ha tracciato a un certo punto tra la nascita diciamo dei sistemi planetari come concentrazione di materie intorno a un punto a cui poi a quale gravitano vari altri corpi e la nascita degli stati come concentrazione di un potere che a un certo punto si impone sugli altri e che può essere anche ingiusto inizialmente e che poi diciamo vive un processo di riequilibrio e di avanzamento verso una maggiore giuridicità ora pensando anche alla storia naturale del cielo anzi facciamo pressa è chiaro che immagino questa analogia anzi penso che questa analogia non debba essere presa come un'identità quindi che tracciare paralleli troppo stretti tra i due piani però mi chiedevo diciamo come svilupparla ecco nel senso che uno potrebbe dire nella storia della tua lettera del cielo Kant scrive questo universo che si espande che continuamente come dire che finisce per mangiarsi quello che c'è a un certo punto è per espandersi sempre di più e se si sposta come dire l'analogia sul lato politico degli stati uno potrebbe dire sì si forma lo stato poi se ne formano altri poi però questo processo va avanti e c'è un ciclo continuo di distruzione costruzione e alla fine quello che resta non è cioè non c'è tanto la pace o l'equilibrio ma il continuo disequilibrio e forse questo è un tema che poi emerge nelle prossime lezioni però mi chiedevo torneremo la ringrazio molto di questa domanda anche perché appunto su quello col timore di non annoiarvi troppo sono stato molto rapido e quindi ne approfitto la ringrazio per l'occasione che mi dà per chiarire questo punto voi sapete che Kant nel 1755 in contemporanea all'altro scritto che citavo cioè La Nuova di Lucidale Lazio pubblica questa sfortunatissima opera che è la storia universale della natura e la teoria del cielo sfortunatissima perché praticamente non l'ha letta nessuno in quanto il deposito nel quale erano raccolte tutte le copie del volume è andato bruciato è stato bruciato e lui lì per la prima volta formula una serie di una ipotesi cosmogonica e oltre a questo diciamo formula per la prima volta una teoria della via lattea ma che se fosse stata conosciuta diciamo avrebbe sicuramente assegnato Kant a uno diciamo a uno dei grandi innovatori della storia della fisica poi Kant riprenderà una parte di quel testo cioè la cosmogonia sarà ripubblicata dai suoi allievi alla fine del settecento mentre invece chiederà di togliere tutta una serie di parti che non lo convincevano più e poi la cosmogonia del settecento cinquantacinque lui la riprende anche nella nell'unico possibile fondamento per una dimostrazione dell'esistenza di Dio che è un testo del settecentosessantadue che cosa dice la cosmogonia kantiana è una molto un'ipotesi molto interessante che sostanzialmente cerca di applicare i principi newtoniani anche alla storia dell'universo voi sapete che Newton da quel genio che è oltre a aver scritto i principi ha scritto vari interventi anche di teologia naturale nella quale sostanzialmente lui ritiene che l'ordine meccanico dell'universo l'ordine che conosciamo noi del sistema solare della galassia è qualcosa che dipende direttamente dall'intenzione di Dio e dalla volontà di Dio Kant con la sua cosmogonia invece spiega la formazione dell'universo in maniera naturale quindi l'ordine reciproco dei pianeti e della nostra galassia non si deve a un'intenzione divina ma si deve all'interazione della forza di attrazione della forza di repulsione secondo i principi del newtonanesimo come fa Kant a immaginare questa formazione dell'universo immaginando un tutto pieno di polvere di materia che è interessata questa polvere queste nebulose dalle forme di attrazione e repulsione le quali forme di attrazione e repulsione interagendo fra di loro creano dei grumi per così dire di materia i quali ruotando attorno a una forza centrale si stabilizzano in qualcosa di sferico e danno luogo all'ordine dei pianeti tutto questo come si produce con un'intenzione del creatore no il creatore si è limitato a definire la materia e definire la materia come qualcosa di interessato da forze attrattive repulsive il fatto che dal caos si sia passati all'ordine si deve puramente alla natura ora lui applica lo stesso principio alla storia dell'umanità tutti gli stati possono essere concepiti come una forza centrale attorno alla quale ruotano un sistema dei pianeti che sono i suoi poteri questo diciamo è il mio modo di leggere perché Kant non dice da nessuna parte gli stati sono dei pianeti ma l'analogia è quella secondo me per cui così come c'è un sistema solare c'è il sistema europeo degli stati i quali si formano sulla base appunto di eventi casuali che cosa non è casuale e rivela quindi un saggio creatore il fatto che tutte queste forze nonostante gli eventi del moto diano un'impressione diversa come dice Newton nella terza legge sono impronta da uguaglianza reciproca cioè se io ti respingo nel momento in cui io Newton fa l'esempio del cavallo fa l'esempio del secchio un cavallo che tira una fune nel momento in cui tira la fune al tempo stesso è tirato dalla fune stessa cioè c'è una perfetta uguaglianza nell'azione e reazione e il fenomeno del moto non ce lo fa vedere ma c'è questa uguaglianza di azione e reazione e questa uguaglianza di azione e reazione fa in modo che questi eventi casuali portino il sistema a un equilibrio statico cioè a un equilibrio nel quale c'è una forza centrale che prevale sulle altre questa forza centrale che prevale sulle altre è giusta è una situazione di diritto assolutamente no gli stati nascono così come la natura fisica in maniera epicurea dà luogo a qualcosa casualmente così anche gli stati nascono con la violazione della giustizia e con la violenza ma appunto lo sguardo del filosofo con il suo giudizio riflettente dice che così come il caos primordiale del tutto pieno di materia ha portato alla creazione del sistema solare così anche stati che nascono per caso con la violenza e con una forma di dominio dispotico non è impossibile che diano luogo a un equilibrio reciproco improntato all'uguaglianza una parte che ho saltato nella lettura fa riferimento a un'idea che lui ha diciamo che esprime in questa dissertazione del 55 che si chiama Nuova di Lucidazio in cui chiama Dio con un epiteto che appartiene diciamo alla tradizione nostra romana cioè chiama Dio Stator Dio è Statore cioè Dio è una bilancia e l'idea è che Dio dà dimostrazione del fatto di essere una bilancia senza intervenire ma lasciando che le cose accadano quindi per tornare al discorso che si faceva prima questo che vuol dire che noi dobbiamo semplicemente aspettare che si diano stati perfetti nel futuro sì questo cambia qualcosa rispetto al nostro essere morali sì nella misura in cui non è che dobbiamo aspettare che la natura faccia quello che gli uomini diciamo dovrebbero fare perché il punto è sempre che dobbiamo realizzarlo noi però la natura non è una smentita all'intenzione morale che solo l'uomo morale può avere quindi diciamo il punto per capire l'analogia tra il fisico e il politico è dato e domani lo vediamo con l'idea di perfetta repubblica è dato dall'uguaglianza e dall'idea che nonostante il fenomeno contrario tutte le forze tendono ad arrivare a un equilibrio statico reciproco e quindi diciamo chi pretende che si realizzi questo equilibrio non sta pretendendo qualcosa che non sta nella natura delle cose grazie ci sono vieni la ringrazio per la lezione volevo chiedere quale fosse il ruolo della provvidenza all'interno appunto della storia cantiana secondo appunto questo quello che abbiamo detto nella durata di questa retta nel senso che da un lato si è posto l'accento sull'azione singolare sull'intenzionalità del singolo sul fatto che il sommo bene sia nel mondo realizzazione semplicemente della coincidenza tra virtù e felicità ma dall'altro si è visto anche che tale realizzazione non dipende dalle azioni del singolo e che proprio questa è la correzione che Canta ha dovuto porre all'articolo cioè il fatto che non ponesse l'accento sull'intenzionalità dell'uomo ma più al fatto che questo ordine si dovesse realizzare punto no il punto è proprio questo l'intenzionalità dell'uomo è ah no devi chiedere il tuo ah sì no no forse non non mi sono spiegato bene cioè tutto il discorso che io ho fatto non toglie l'intenzionalità dell'uomo e la responsabilità individuale questa intenzionalità dell'uomo e responsabilità dell'individuale non è però diciamo ehm sganciata da una prospettiva di teodicea nella quale Dio non è indifferente al bene che l'uomo fa eh dopo domani parleremo di provvidenza e quindi riprendiamo il tema ma certamente tutto questo discorso è legato appunto alla natura che Kant chiama anche provvidenza perché Kant usa due termini diversi natura e provvidenza dopodomani spiegherò che appunto i due termini sono sinonimi con una sfumatura differente natura destino provvidenza nella provvidenza c'è l'idea di un Dio che non è un fato così come pretendono gli antichi ma è qualcosa di necessario che persegue qualcosa come farebbe una volontà e un'intelligenza cioè nella nozione di provvidenza c'è l'idea di una necessità assoluta guidata da criteri del bene allora il discorso è che io un soggetto responsabile che è lui quello che ha responsabilità di portare il bene il quale ha nella provvidenza non la gente che si sostituisce a lui nel portare il bene ma certamente ha nella provvidenza l'idea di qualcuno che ha creato di qualcosa che ha creato il mondo secondo criteri di bene quindi non c'è una provvidenza che fa il bene al posto degli uomini il bene lo fanno gli uomini o nessun altro ma il fatto di non fare il bene dipende dalle mancate scelte degli uomini non dalla provvidenza perché la provvidenza nonostante la testimonianza contraria del mondo ha costruito il mondo secondo criteri di giustizio e quindi se noi non siamo buoni o se il mondo non è giusto la colpa non è di chi l'ha fatto ma di noi che agiamo nel mondo non so se sono riuscita a rispondere però sulla provvidenza torniamo dopo domani ok innanzitutto grazie per la lezione io non sono esperta del canto politico e la mia formazione è principalmente del canto estetico però ho trovato molti spunti soprattutto perché proprio nelle ultime settimane ho letto un saggio molto recente di Susan Shell per The Cambridge Elements The Politics of Beauty La politica del bello in cui vabbè al di là di molti concetti che ho trovato in continuità lei per esempio parlava della spionida miseria e l'autrice Shell parlava di falce e scimer il luczichio illusorio che si contrappone alla semplice nobiltà nelle Beobachtungen principalmente mi sono trovata appunto con la diciamo l'opposizione che si può trovare tra il gusto per la natura bella quindi una bellezza libera il gusto per una bellezza artificiale che sarebbe il gusto per l'opera d'arte che veniva affrontato in questo saggio che ho letto riconducendolo all'opposizione tra principio costitutivo e principio regolativo e questo regolativo veniva inteso appunto come un principio sotto il quale il gusto veniva inteso come un'opera di civilizzazione educazione un qualcosa da coltivare quindi da un lato un gusto che ci è naturale e immediato per l'appunto come può essere quello per la natura bella e dall'altro lato un gusto che invece deve essere deve essere coltivato appunto e lei parlava mi ha colpito un'agitazione che non era nell'end out che lei ha detto all'inizio e poi magari le chiederò il riferimento più preciso in cui si parlava appunto della moralizzazione che però non è così scontato ritenerci moralizzati perché non è la stessa cosa di civilizzazione e stavo appunto pensando alla questione della capacità di apprezzare un'opera d'arte cioè possiamo definirci davvero soggetti morali solo perché noi siamo in grado di apprezzare un'opera d'arte o forse quello è solo civilizzazione perché a me sembra che sì assolutamente questo è il punto questo è il punto cioè l'ambito morale si in senso kantiano si pone in una prospettiva completamente separata tanto dal fisio quanto anche dall'estetico per questo Kant scrive una critica del giudizio cioè una critica dell'urta e scraft della forza del giudizio perché tutto quello che attiene al bello non è necessariamente fondato sul morale e sull'imperativo categorico che invece attiene ad una dimensione diciamo puramente razionale quindi sì cioè la la ringrazio della domanda perché questa separazione tra processo di civilizzazione e processo di moralizzazione che secondo me Kant riprende pari pari dai discorsi di Rousseau cioè non se le inventa lui la diagnosi diciamo negativa sul processo di civilizzazione che non è un processo di moralizzazione è una ripresa da Rousseau la differenza tra Kant e Rousseau è che Rousseau diciamo in Rousseau rimane un problema aperto per così dire Kant con la sua concezione della storia cerca di dare una risposta a questo disagio della civiltà il senso estetico fa parte della civilizzazione cioè è qualcosa di artificiale al pari del processo di civilizzazione che cosa invece non è artificiale il diritto la giustizia in questo Kant secondo me rompe con la tradizione moderna perché lui porta il discorso sul diritto e la politica dentro quell'ambito che è quello morale che è un ambito che va oltre sia il fisico ma anche oltre l'estetico salve la ringrazio la mia era ma scusate voi avete anche un nome sono Francesco grazie la mia era solo una curiosità se stavo pensando a luce di quello che aveva detto al conflitto delle facoltà in cui Kant si esprime diciamo in maniera famosa sulla rivoluzione francese sull'entusiasmo e la cosa che mi veniva in mente rispetto a quello che aveva detto era se alla luce del principio metafisico del sommo bene diciamo la natura non non smentisce ma può solo confermare diciamo un effettivo progresso perché diciamo qual è poi l'altro meccanismo che porta da un lato a guardare con apprezzamento la diffusione di una mentalità più che magari di diciamo di un effettivo fatto diciamo politico e invece magari dall'altro a criticare il diritto diciamo rivoluzionario in un certo qual senso cioè non so se mi sono spiegato forse non ho capito bene cioè perché criticare la possibilità alla luce solo del principio metafisico cioè non poi diciamo alla luce magari del diritto ben dispiegata la questione rivoluzionaria appare diciamo in uno stato diciamo in cui la si può anche accettare non so come dire allora premettiamo che diciamo io tutta la lezione di domani è dedicata al diritto di resistenza alla rivoluzione quindi questo tema lo riprendiamo però la ringrazio della sua domanda perché diciamo mi riporta alla prima domanda c'era un passaggio anche nella prima domanda che ho trascurato a un certo punto perché seguivo un filo e che secondo me riappare anche nella sua adesso le faccio io una domanda secondo lei il sommo bene è il prodotto del progresso delle costituzioni politiche cioè noi possiamo pensare al sommo bene come qualcosa che si realizza sulla base di eventi politici e magari anche di una rivoluzione che porta maggiore giustizia nel mondo lei vede così il sommo bene? no ecco perfetto quindi partiamo da questo presupposto cioè che il sommo bene può darsi che la mia lettura sia fallace è qualcosa che attiene all'azione morale e quindi è diciamo limitata ad una dimensione personale quindi nessuna nessun evento politico tantomeno una rivoluzione come vediamo domani è per Kant fattore di sommo bene perché il sommo bene è quello che si realizza ogni qualvolta io in base alla mia autonomia agisco presupponendo il dovere per il dovere e quindi è qualcosa che diciamo nel mondo si realizza anche se non si vede molto spesso perché non ne parla nei telegiornali il discorso dell'entusiasmo per la rivoluzione eccetera è secondo me il vostro collega fa riferimento ad un noto passo del conflitto delle facoltà in cui Kant diciamo a differenza dei polemisti antirivoluzionari tedeschi perché lì chiaramente Kant sta facendo una polemica interna al mondo di lingua tedesca contro gli antirivoluzionari vede nella rivoluzione francese un evento che ha diciamo causato nel pubblico un entusiasmo e lui parla di questo entusiasmo come un entusiasmo morale questa presa di posizione kantiana non ha nulla di politico domani e dopodomani diciamo cercherò anche un po' di dare qualche elemento di quello che secondo me è il rapporto di Kant con la Francia rivoluzionaria ma il punto è che in quella tipo di reazione del pubblico colto c'è la consapevolezza del fatto che il mondo è costruito sulla diciamo è costruito secondo criteri morali e secondo criteri di giustizia quindi per Kant il problema non è tanto la rivoluzione francese o assegnare alla rivoluzione francese un primato perché appunto ora so di dire una cosa un po' provocatoria perché Kant è il filosofo della rivoluzione francese già per i suoi contemporanei ma in realtà anche su questo bisognerebbe un po' ridefinire questa cosa qui per Kant il problema è invece dare per dimostrato in base appunto a quel tipo di reazioni che il tema della giustizia è un tema che appartiene al senso comune cioè che per quanto diciamo ci sia stato il terrore per quanto la rivoluzione non sia il fatto che un pubblico colto anche a distanza reagisca favorevolmente vuol dire che il senso della giustizia è qualcosa che nonostante le smentite nel mondo continua a motivare le azioni umane e quindi il gioco è sempre quello di avere una moralità che è completamente fondata sulla scelta individuale e sulla responsabilità individuale punto non ci sono stati perfetti che lo favoriscano e non ci sono religioni anche che lo favoriscono ecco si faceva accenno anche alla religion cioè in Kant comunque l'elemento fondativo è dato dalla determinazione della legge morale quindi non c'è un dio prima della legge morale anzi la dimensione religiosa si fonda sul fatto che con la legge morale l'ente che agisce è capace di porre l'oggettività morale allora anche su questo io sono più affezionato all'idea che Kant sia un critico dei pietisti e di quello che ha dovuto subire quando stava in collegio ecco quindi diciamo c'è più metafisica che pietismo perché il pietismo invece sai uno diciamo il grande interlocutore pietistico di Kant è un autore che si chiama Cruzius e in Cruzius o in autori del pietismo è fondamentale che la fondazione parta da Dio cioè io obbedisco ad una legge perché è una legge di Dio invece in Kant c'è l'obbedienza alla legge che poi tramite i postulati della ragione pratica ci permette di avere un argomento per dire che Dio esiste e ci permette di avere un argomento anche del fatto che la libertà esiste e che chi ha fatto questa meravigliosa costruzione che si chiama Mondo probabilmente non è indifferente al nostro desiderio di giustizia perché io posso pensare come Epicuro o posso pensare come certo Cicerone o che diciamo alla fine qui c'è un fato che ha definito tutto secondo criteri razionali e questa definizione ha sicuramente dato un risultato molto bello anche statisticamente che si chiama pianeta Terra che gira eccetera ma uno potrebbe dire allora quello che ha fatto tutta questa costruzione non ha interesse alla giustizia cioè la giustizia è un'invenzione degli uomini che con la natura fisico-meccanica che è stata messa su non ha nessuna relazione invece in un pensatore come Kant si arriva addirittura a toccare anche quella dimensione lì cioè io a partire dalla legge morale posso fondare la dimensione religiosa e posso dire cristianamente che il Dio che ha creato tutto è un Dio di giustizia grazie bene allora se non ci sono altri interventi anche da casa non vedo richieste liberiamo il professore anche perché domani ci aspetta un'altra intensa lezione grazie grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie.